Simone Butturini, la mostra Luci e parole. Qual è la particolarità di questa esposizione? La mostra riguarda arte, cinema e cibo. Diciamo che in queste 20 opere che espongo ci sono tre filoni. Uno che riguarda le archeologie industriali e le torri d'acqua, un altro riguarda le colazioni e gli interni e il terzo è quello che riguarda l'alta cucina rappresentata dalla Millefoglie di Giancarlo Perbellini. La mostra è iniziata il 15 di maggio con un favore di pubblico e con il film La fabbrica della tela. La mostra è legata a Expo Veneto in questo ambito e vuole proprio trovare un connubio tra le tre dimensioni. La particolarità che ho utilizzato dal punto di vista tecnico nelle tele, ci sono tecniche miste, l'utilizzo di tessuti damascati come appunto nel dipinto della Millefoglie di Perbellini dove si intravede il tessuto e anche una superficie a brasa graffiata attraverso pennellate sintetiche. Altri dipinti sono dei pastelli più freschi che danno un'idea dell'inizio di quello che potrà essere il progetto. Io mi ritrovo sia nell'utilizzo del pastello che nell'utilizzo delle tecniche miste che riguardano sia l'olio, la tempera, l'acrilico e gli smalti che utilizzo alternando nelle varie fasi. Ma che cos'hanno in comune arte per esempio e cucina? Da dove è nata questa sinergia con lo chef Giancarlo Perbellini? Parlando anche con lo chef Perbellini ci siamo accorti che ci sono delle assonanze, soprattutto nell'impiattamento, nella presentazione del dipinto, nella presentazione del suo piatto, sicuramente possiamo trovare delle componenti che ci uniscono l'architettura del quadro e l'architettura in cucina. L'opera pittorica di Simone Butturini ha ispirato anche un cortometraggio che è diretto da Luca Caserta, molto innovativo, che si chiama La fabbrica della tela. Vuoi parlarcene Luca? Sì, La fabbrica della tela è un documentario a cui stavo pensando da un po' di tempo. Io volevo realizzare un documentario sulla nascita di un'opera d'arte. Poi ad una sua esposizione ho conosciuto Simone Butturini, sono rimasto affascinato dai suoi quadri, dalla sua tecnica pittorica e anche dai soggetti che ritraeva legati in quel periodo all'archeologia industriale e quindi gli ho proposto la mia idea, che era quella di costruire un film che si rifacesse un po' al cinema delle origini, cioè che facesse parlare le immagini, evitando quindi i cliché tipici del cinema documentario, ossia l'intervista, e si focalizzasse invece proprio sulla nascita di un'opera d'arte. Quindi quello che io volevo raccontare era proprio il processo artigianale che sta dietro la nascita di un dipinto, i materiali, i suoni, i rumori e questo ho cercato di rendere filmando Simone come un vero e proprio filmmaker, quindi cercando di influire il meno possibile su di lui e entrare il meno possibile nel suo mondo e cercando invece di catturare le sue emozioni, i suoi stati d'animo, un po' come un cacciatore fa con la sua preda, insomma, postandosi dietro una siepe e cercando poi di cogliere i momenti più peculiari della nascita di un'opera d'arte. Cercando anche però di rendere, oltre al lavoro artistico e anche il lavoro artigianale che c'è dietro, nella nascita, in questo caso, di un dipinto. Il dipinto è questo che si chiama La fabbrica della tela e tra l'altro appunto nel corso dell'opera che viene filmata magistralmente appunto in questo cortometraggio si ha la sensazione addirittura di sentire i profumi dei colori appunto mentre il quadro viene realizzato. Sì, era proprio quello che ho cercato di rendere, come dicevo, oltre alla nascita di un dipinto anche la tecnica che ci sta dietro il lavoro artigianale, i materiali, il legno della tela, i pigmenti dei colori, i rumori dei colori ho fatto anche tutto un lavoro poi di post-produzione per amplificare, accentuare appunto il suono vischioso del pigmento i rumori del martello di quando viene costruita la tela, i rumori del pennello che passano sulla tela in modo più dolce, più nervoso a seconda appunto dello stato d'animo di Simone. Dopo appunto la prima proiezione che si è stata in occasione della Vernissage ci sarà una nuova proiezione sabato alle 18 sempre presso la Galleria Gelfi in cui riproporremo nuovamente il documentario. Grazie a tutti.